buongiorno a tutti ragazzi bentrovati io sono deuchi e vorrei oggi darvi il benvenuto a questo nuovo video in cui parleremo e avete capito bene di psionici ultimate psionics è il manuale a mio parere di riferimento per tutti direi e qui lo so sono abbastanza azzardato ma tutti i sistemi basati sul diventi per quello che riguarda le arti psioniche libro manuale edito dalla dreams card insieme ovviamente e col benestare di paizo reperibile in entrambi i siti è un manuale stupendo che mi sto mi sto diciamo così mettendo in moto per avere in formato cartaceo con hardcover tutto colorato è uno dei manuali se non il manuale più costoso in assoluto tuttavia ne vale assolutamente la pena sia per chi dice che il manuale di riferimento per le arti psioniche è quello di dendrite e mezzo sia chi dice che ultimate psionics è terze parti quindi non preso in considerazione da paizo io dico no guardate questo canale guardate questo video ascoltate leggete il manuale di ultimate psionics capirete subito il perché della della mia risposta negativa ebbene che cos'è ultimate psionics ultimate psionics è un manuale di 453 pagine direi o qualcosa del genere in cui sono comprese 10 o 11 classi nuove totalmente sviluppate sul sistema psionico tante razze diverse direi grosso modo una decina che fanno riferimento sia a classi psioniche sia aprono la strada a nuove nuove vie per le classi già conosciute vi sono all'interno dello stesso manuale ovviamente descritti tutti i poteri psionici di cui parleremo in un prossimo futuro i nuovi oggetti gli oggetti leggendari e tutto ciò che ne consegue e una piccola idea di quelle che sono gli archetipi abbiamo per l'appunto il capitolo dedicato osservando per bene la nostra copertina che è stupenda vi porto all'indice allora come potete vedere abbiamo detto le prime razze che sono una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci dieci razze le classi capitolo due sono una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci abbiamo ovviamente i nuovi tipi di gradiabilità o abilità come esempio autoipnosi le conoscenze psioniche metapsioniche e i talenti abbiamo ovviamente gli psionici quindi i poteri psionici confronto con la magia di cui siamo sempre a conoscenza gli archetipi delle classi le razze con archetipi razziali le classi di prestigio e guarderemo in seguito gli oggetti psionici ovviamente come un ottavo e ultimo capitolo andiamo avanti prima di saltare direttamente alle razze che il primo capitolo vorrei chiarire un momento per coloro i quali che non hanno mai sentito parlare di psionici che cos'è entrare ed introdurre la propria il proprio gioco il proprio ruolare all'interno del mondo psionico il mondo psionico è un mondo che non è alternativo a quello naturale non è un out out quindi o incantesimi arcani divini o magia psionica no entrambi i mondi possono coesistere sono intersecanti in alcuni punti perché ovviamente le meccaniche possono essere in alcun modo simile similari magari in alcune volte anche complementari lo psionico e quindi il termine psionico cosa vuol dire il termine psionico vuol dire che fa riferimento al potere della sua mente fa riferimento a ciò che il suo intelletto la sua rapidità mentale la sua abilità di improvvisare e di ragionare soprattutto colui che affidamento su tutto ciò ed è colui che da ciò riesce a ottenere manifestazione di quel che ha dentro le abilità psioniche sono generalmente la manifestazione di un'idea di un pensiero di una fantasia che si verifica a livello a livello elementale o a livello comunque terreno come ambientare in una campagna normale tra virgolette normale chiaramente una civiltà o comunque alcuni personaggi psionici il tutto è semplice verranno visti dai normalissimi png come strani come mostri più delle volte come uomini e donne magari dai tratti così caratterizzanti tratti caratteristici molto 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 diversi quindi magari xenofobia quindi magari emancipazione e terrore ovviamente che ne consegue o che pure lo causa pg pg magari di classi totalmente diverse da quelle psioniche possono entrare in contatto quindi attraverso quest'unione attraverso questa piccola lì magari di genti dai poteri psionici in svariati modi qui ovviamente sta al narratore cercare di equilibrare la cosa però ad esempio si potrebbe portare il tutto su un altro piano quindi ad esempio indagine grandi biblioteche esplorazione anche in altri piani ad esempio muoversi dal piano terreno al piano etereo muoversi sui piani elementali per capire per scoprire che cos'è uno psionico indagare farsi aiutare da maghi potenti da chierici druidi potenti e arrivare a carpire le informazioni che ci servono per contestualizzare una nascita di una nuova abilità che è per l'appunto le conoscenze psioniche quindi un qualcuno che non è all'interno del mondo psionico può effettivamente guadagnarsi a seconda sempre degli escomotari che dovrà il narratore è capace di porre nella sua campagna dare donare a un personaggio questo tipo di conoscenza sarà poi questo personaggio di a decidere quanto vorrà spendere quanto vorrà conoscere questa questa questo ambito ok e da qui poi poco può cominciare la lo studio di questo personaggio o del suo gruppo intero al mondo degli psionici dunque diamo un attimo una un'occhiata veloce agli umano a scusatemi alle razze nuove non penso le guarderemo tutte nel nello specifico però questa ovviamente è la tabella contenente gli aggiustamenti tipici delle abilità di classe delle caratteristiche classe questi sono i blu i goblin blu i goblin blu hanno meno dura forza più da destrezza ed intelligenza sono piccoli velocità normale scuro visione sono psionici naturalmente cosa vuol dire che sono psionici naturalmente vuol dire che ora ve lo vado a prendere subito hanno possiedono il talento wild talent come 30 bonus di primo livello se prendono livelli in classi psioniche guadagnano invece il talento psionico il talento talento psionico allora ricerchiamo wild talent eccolo qua wild talent ci permette di guadagnare a vita psioniche e due poteri e due punti poteri poteri e due punti poteri addizionali tutto qui molto semplice torniamo a una pagina precedente eccoci qua allora questi sono i dromiti idromiti andiamo a vedere un attimo la foto ecco qua sono insettoidi i due carisma e destrezza meno due forza sono piccoli velocità lenta velocità ridotta chitina hanno in pratica alcune resistenze e più una armatura naturale bonus hanno poteri psionici naturali dati dalla classe e olfatto quindi è fiuto gli urgar li conosciamo gli urgar hanno poteri psionici di base per il resto sono esattamente come la classe come la scusatemi la razza la razza di base questi sono gli elan sono gli umani aberranti con ovviamente il più due ad una caratteristica scelta sono resistenti ad alcune forme di attacco attitudine agli psionici e ovviamente naturali psionici di base con i naturali psionici di base Gorg born mezzi costrutti Poi anche perché è interessante più due forze intelligenza meno 4 carisma Cattura, armatura naturale possono essere ricostruiti resuscitati e riportati in vita e ovviamente sono naturali psionics Questi sono i mezzi giganti i love giant Sono molto belli, particolarmente saggi e forti, non molto abili alla destrezza. Poi abbiamo le menadi, le menadi sono qualcosa tipo serpenti di mare, hanno abilità a nuotare e hanno abilità particolari per quello che riguarda l'essere barbari, quindi l'innata aggressività, la dirompenza, l'essere estremamente istintivi. Hanno dei burst di movement speed gratuita, hanno degli attacchi col morso, insomma sono piuttosto interessanti. I Noral, prostituzione e saggezza, sono dei simbionti, sono dei face naturalissimi. Gli Ophidion sono i rettiloidi praticamente, ovviamente Natural Epsionics, XF. Gli XF sono questi. Anche loro hanno possibilità di correre più veloce, più di destrezza, più di carisma, meno forza. Come potete vedere abbiamo anche le tabelle che ci permettono di identificare l'età di partenza, l'altezza, il peso e tutte le caratteristiche che nel manuale di base erano effettivamente sparse un po' per le pagine. Detto questo, vogliamo passare alle classi. Le classi anche queste sono 10. Qui vediamo ovviamente la tabella con i vari modificatori e con i punti potere bonus dati dal livello del manifestatore. Che cosa vuol dire? Se prima noi avevamo non punti, bensì incantesimi bonus o conosciuti o al giorno, noi qui abbiamo punti potere extra o al determinato livello. Ad esempio, noi abbiamo una caratteristica fondamentale, 15, avremo 20 punti extra al ventesimo livello e uno al primo, con una progressione 1 a 1. Se avremo 41, arriveremo a 150. Giusto per dire, per rendervi conto della grandezza comunque di questi bonus. Dunque, andiamo avanti. Questa è un'altra, è posto in un'altra posizione strategica. Proprio in questa pagina in cui cominciano a presentarsi le classi psioniche, ci permettono di identificare effettivamente la ricchezza iniziale, che anche questa nel manuale di base era un po' sparsa. Penso nel capitolo dell'inventario o dell'equipaggamento. La Aegis. Che cos'è la Aegis? La Aegis è il combattente primario, è la front line. Allora, il suo dato vita è il D10 e può essere di qualsiasi tipo di allineamento. Però su cosa si basa? Lui è l'unico che non ha una lista di poteri psionici. Proprio, ok? Tanto più che guadagna comunque punti potere al giorno e per i livelli, ma gli servono soltanto per il multiclasse. La Aegis è come se fosse un guerriero, per dire il tutto fare. La Aegis si basa sulle capacità del suo combat suit, di questa sorta di armatura che può far crescere il suo proprio corpo, in base a vari aspetti che dopo vedremo, che può essere customizzata in base alle proprie caratteristiche, in base al proprio ruolo, giorno per giorno, momento per momento, ok? La lista delle abilità di classe è media, direi, ha 4 più modificatori di intelligenza, gradiabilità per livello. Questo è, giusto per renderci conto, una piccola immagine di un blu, se vi ricordate, un goblin, che più che un goblin sembra un umano è piuttosto corpulento, ok? Dall'armatura. Quindi questo vi faccia immaginare che cosa un Aegis può diventare con la propria armatura astrale. Allora, gli Aegis sono competenti con tutte le armi semplici da guerra, con armature leggere e scudi, senza i torre, ovviamente. Punti al potere al giorno. Abbiamo Astral Repair. Può riparare oggetti normalissimi, ok? Facendo riguadagnare due punti di danno, ma come azione standard, utilizzabile a volontà. Può ovviamente rimuovere la condizione di rotto, o però non può modificare, come se fosse qualcosa di magico, un'abilità magica, caratteristiche che sono già state trasmutate. Ora arriviamo alla sua abilità principale, che lo rende ciò che è. Formare corazza astrale. Allora, la Aegis può controllare una sorta di ectoplasma e formare una corazza astrale, ok? attorno al proprio corpo. Ha, grosso modo, tre aspetti. Pelle, armatura o... viene descritta come Juggernaut, quindi come colosso, ok? Allora, andiamo a vedere i tipi, ad esempio, giusto per renderci un'idea. Astral Skin, pelle astrale. Questa pelle, questa, scusatemi, questo tipo di astral suit, quindi corazza astrale, agisce come pelle psicoattiva. Che, dopo andremo a vedere cosa vuol dire, me lo segno subito, ricordatevelo anche voi. Comunque, grosso modo, è un'armatura leggera che ha grossissimi bonus che possono essere intercambiati durante il giorno. Formare questo astral suit richiede un'azione rapida. L'Aegis non guadagna bonus di armatura, ok? Quando indossa questo. E guadagna, però, delle, degli upgrade, delle customizzazioni gratuite. questa roba, tutto questo complesso, ovviamente, si migliora al secondo e al dodicesimo livello. Astral Armor, quindi armatura astrale, assomiglia a una cotta di maglia perfetta ed è trattata come questo. Ed è trattata come questo. In pratica, il nostro caro Aegis, quando vuole, qualunque volta voglia, lui dice, ok, ho una cotta, ho una, scusatemi, una armatura di maglia, ok? Perfetta. A caso. Di primo livello. e poi abbiamo Astral Juggernaut. È una half plate, quindi una corazza completa fino a metà. Perfetta, ovviamente. ovviamente quando indossa un'armatura più che leggera, quindi sopra l'Astral Suit, quindi Astral Armor e Juggernaut Astral, no, scusatemi, si chiama Astral Juggernaut, guadagna bonus alla CA solo grazie alla sua alla sua forma, ok? Alla sua Astral Suit. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo anche non avere indosso questo ectoplasma e beneficiare lo stesso della nostra armatura. Tuttavia, viceversa, non succede se noi utilizziamo Astral Armor e Astral Juggernaut, quindi la versione media e pesante della nostra corazza astrale. Abbiamo questi punti customizzazione, ok? Che vedremo tra poco. In più abbiamo Craftsman. Dal secondo livello un Aedes guadagna un più uno a un'abilità artigianato. Al sesto e ogni quattro livelli questo bonus aumenta di uno. Il secondo livello guadagna riduzione danno due, ok? Quando indossa la sua Astral Suit. Ovviamente al quinto e ogni tre livelli questa cosa aumenta. Invigorating Suit al terzo livello quando indossa la sua armatura astrale ha un più quattro a nuotare ad esempio la costituzione per continuare a correre marce forzate, per evitare danno non letale, per trattenere il fiato, insomma per una serie di cose. Reconfigure questo è un perk molto interessante. Al terzo livello una Aegis può riconfigurare fino al suo modificatore di intelligenza punti customizzazione alla sua Astral Suit una volta per giorno come azione standard. Questa cosa ovviamente aumenta con la progressione. Augment Suit al quarto livello la Aegis può spendere fino a un punto potere per quattro livelli da classe. per customizzare la sua Astral Suit guadagnando una customizzazione temporanea ok, no scusatemi un punto customizzazione temporanea per ogni punto potere speso. Master Craftsman di quinto guadagna il talento Master Craftsman che se non mi ricordo male gli permette di qualificarsi per i talenti di creazione oggetti come se fosse un incantatore e può utilizzare una tal prova molto molto probabilmente quella in cui aveva il bonus quella prova di artigianato in cui ha posizionato il bonus e utilizzare quella come abilità per gli artigianato in generale. Cannibalized Suit di 20esimo livello può convertire la sua energia psionica utilizzata per creare la sua armatura per curarsi e Perfect Merger di 20esimo livello la sua armatura non può essere rimossa in alcun modo ok ovviamente opposta alla sua volontà in più può spendere due usi della sua abilità riconfigurare per alterare tutta la customizzazione della sua Astral Suit infine una volta al giorno può potenziare il suo Cannibal Suit quindi assorbire l'armatura astrale curandosi di tutti i punti di danno allora prima di andare ai punti customizzazione guardiamo un momento la tabella il bonus di attacco base è pieno i tiri salvezza sono buoni in tempra e volontà ha ovviamente tre punti customizzazione al primo livello che diventano 26 al ventesimo livello e ha un punto potere al giorno di primo che diventa 70 punti potere dunque le customizzazioni guardiamo qualcosina tipo qualcosa del un punto allora con un punto customizzazione noi abbiamo scurovisione ad esempio abbiamo resistenza all'energia evasion extra arms attenzione abbiamo due braccia due braccia in più ok ogni arma ovviamente può tenere ma non utilizzare qualunque oggetto che può essere tenuto in arma poi dopo abbiamo ad esempio improved armor che ovviamente ci ha gratis speed la nostra velocità base aumenta di un metro e mezzo e da qui ho un sacco di cose allora la pelle psicoattiva ok è un costrutto psionico è un oggetto psionico che costa comunque un sacco di soldi e che in pratica ci permette di assumere una forma ok particolare fino a tre pelli di questo tipo di pelli psicoattive possono essere indossate allo stesso caso e ovviamente come sapete è gratuita o perlomeno in alcuni sensi è gratuita alla classe per la classe della Aegis cosa dice abbiamo ad esempio la pelle del camaleonte più dieci a furtività pelle dell'artiglio possiamo attivare il potere artiglio della bestia artiglio della bestia a volontà pelle del difensore più quattro all'armatura naturale ad esempio pelle dell'eroe pelle dell'eroe dice più tre a ca più tre a tutti i ts e più tre ai tbc ok ad esempio abbiamo pelle del ragno più 20 a scalare ok oppure pelle del troll rigenerazione 5 al minuto insomma abbiamo alcuni tipi di buff permanenti finché si indossa questa e finché non la cambiamo perché la Aegis può farlo molto molto interessanti quindi capite bene che la Aegis si basa quasi completamente sulla nostra astro al sud e a differenza di tante altre classi che vedono alcune delle proprie priorità di classe alcune delle proprie competenze principali dei privilegi principali di classe comparire ai livelli successivi la Aegis di primo livello ha già tutto ciò che gli serve a parte l'artigianato che comunque non effettuerebbe di primo ai primi livelli quindi la Aegis è una classe fatta e finita per quello che riguarda i privilegi di classe non parleremo in futuro ok questo è grosso modo in maniera veloce ciò che è l'introduzione agli psionici e la classe della Aegis vista sempre in stile review sono contentissimo di ciò che sta succedendo sul canale delle avventure che stiamo passando insieme insieme e di che cosa si è creato specialmente con alcuni di voi quindi io ringrazio tantissimo tutti voi per l'ascolto per il supporto che mi date per la vostra presenza durante tutta la settimana anche quando non pubblico video sul canale in particolar modo però ringrazio Vesh Black per la grandissima musica e l'editing dell'intro nuovo del canale Lorenzo e Vesh Black e Master Mix per sopportarmi e tenermi come narratore in quell'avventura che avete visto pubblicata e che probabilmente ritroverete ogni tanto con dei mashup con dei mix magari editati quando magari avrò qualche ora a disposizione che è Alba Deere ok quindi ho detto tutto io vi do appuntamento al prossimo video sul canale che molto probabilmente sarà Arsona Pathfinder direi e vi invito a dare un'occhiata se non l'avete visto al video intitolato ragioniamo perché al di là dei giochi al di là del divertimento è ragionare l'attività più importante dell'uomo quindi davvero quello è forse l'unico video di questo canale che va visto e ascoltato per bene ok ragazzi grazie a tutti per l'ascolto per la sopportazione e per sopportarmi comunque in ogni caso io vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao